Buongiorno a tutti, buongiorno, martedì 21 novembre 7.08, di nuovo qui su Cristian Radio con una nuova puntata di Good Morning Milano. Buongiorno, come state? Tutto bene? Il buon Masieri è leggermente in ritardo, ma sta arrivando, mi ha scritto, quindi non abbiate paura che non sarò solo questa mattina, ma arriva tra pochissimo un punto Lorenzo Masieri. Vi ricordo che rimaniamo qui in diretta fino alle 9 e vi raccontiamo un po' tutto quello che succede a Milano. Adesso poi leggeremo i giornali, leggeremo un po' le informazioni che ci arrivano da Milano, città metropolitana e vedremo che cosa si può fare oggi a Milano, che cosa è successo ieri. Insomma, siamo martedì, appunto dicevo martedì 21 novembre, quindi seconda giornata della settimana e davanti a noi ancora una lunga settimana che dovrebbe diventare un po' più frescolina man mano che va avanti. Così dicono almeno, così dicono il meteo. Comunque, mi ricordo appunto sempre che potete seguirci su Crystal Radio, potete farlo sul 96.2 FM, sul sito internet crystalradio.it e sulla app per iOS e Android. Tutto questo in diretta alle 7 alle 9. Se poi volete rivederci c'è Milano All News, abbiamo il sito, abbiamo il profilo Twitch, YouTube, Milano All News. Ci seguite e potete tranquillamente rivedere tutto quello che sono anche i nostri ospiti, le nostre rubriche, le nostre interviste, tutto quello che combiniamo qui la mattina insieme. Andiamo con la musica adesso, Pinguini Tattici. Pinguini Tattici Nucleari alle 7.13 minuti ed è qui con noi anche Lorenzo Masieri. Buongiorno Lorenzo. Eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti. Avevano fregato le chiavi di casa o della macchina? No, di casa, di casa. Ah, di casa. Sì, mi fregato. C'è stato un piccolo misunderstanding. Familiare. Chiavi finite in borsa di altri. Esatto. Quindi hai dovuto svegliare tutta la famiglia per cercare queste chiavi. Sì, un attimo, 20 secondi. Non capito, magari stanno dormendo. No, ho capito. Sì, no, prima che io pensavo di averle perse in giro. Ma l'hai fatto con la tua proverbiale gentilezza? Sì, assolutamente. Poi racconto. Io mai, 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 mai. Io che vado a lavorare il resto della mattina, non come voi che siete qui a fare niente. No, no, no. Io avrei fatto così. Ma perché? Così. Ma perché sei bastardo dentro, come direbbe il bon Giacomino Poretti. Sì, sì. Avrei fatto sbattendo la porta di casa continuamente. Come faccio a chiuderla se non ho le chiavi? Ebbè. Così. No, no, comunque no, molto più peccato perché è piano piano sottovoce anche in questo caso lì. piano piano sottovoce, in punta dei piedi, come piace a noi. Hai trovato questi carri? Oppure c'è la porta di casa tua aperta? Dobbiamo andare via Canzio numero 15 in Boviso? Come è che è? Oppure c'è una porta aperta, entrate, prendete quello che volete. Tutto chiuso, tutto chiuso. Ah no, ok. Tutto chiuso. Eccoci. Cosa esiste via Canzio numero 15 a Milano? Vuoi che controlli? No, 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 no. Perché volevo dire via Candiani, ma non credo sia neanche quella, giusto? L'abiti lì, no? No, no. Però è già più vicino alla Boviso, infatti, però non sapevo se era giusta, non volevo dire. No, l'hai fatto bene. Poi mi dimentico che non è quella lì, però, ok, va bene. No, Candiani è... Invece è 331, 7, no. A proposito... 331? No, no, niente 331. A proposito, appunto, la stavo dicendo, a proposito di 331, siamo senza WhatsApp questa mattina. La tecnologia ci è avversa questa mattina e il computer del WhatsApp ha svampato, signor. Ha svampato, signor. Ha svampato, non è giovedì, è martedì, ma ha svampato, signor. Ha svampato il computer e non abbiamo WhatsApp. E vabbè. Quindi, se volete, dovete venire a citofonarci per parlare con noi. Oppure... Scriveteci una mail. No, non c'è neanche la mail. Perché il computer è quello della communication esterna, è proprio svampato. E quindi abbiamo quello della music, ma quell'altro ha svampato, signor. E quindi non si può fare. Però, volendo, no. Chi ha il nostro numero ci scrive in privato. O cioè, se volete, proprio gli leggiamo i messaggi, nel senso... Altre informe non ne trovo. No, niente, non trovo altre formule questa mattina. Un piccione viaggiatore, se volete. Come siamo diventati dipendenti. Sì, sì, sì. Beh, potete seguirci sui social, se volete, no? Rufusit su Instagram, se volete. Scrivetemi un DM e lui sarà... Lorenzo Masier. Lorenzo Masier, c'è un punto. C'è forse un punto a caso tra la Lo e Renzo. Lo.renzo. No, non è vero. Lorenzo.masier. Adesso guarda. Non lo so. Non mi ricordo. Dopo vado a vedere cosa sei. Particolamente social. E voi cosa siete? Volete dircelo? Non potete. No, però se volete, sì. Potete seguirci sui social privati nostri. E quello di Milano News, di Crystal Radio. E no, troppi no, perché poi non riesco a seguirli tutti stamattina. Quindi... State tranquilli che io non do contenuti in più sulla piattaforma. Ecco, siamo a posto. No, però volendo potete seguirci, sì. Potete seguirci. Forse la cosa migliore questa mattina è seguirci così. Parlate con voi stessi. Cioè commentate quello che diciamo ad alta voce per i fatti vostri. Tirate su il finestrino e di a cuo di fianco. Ascolta Crystal Radio cosa stanno dicendo. Così fate anche pubblicità. Così fate anche pubblicità alla radio. Fate così. Al semaforo adesso. Scendete tutti e dite ascoltate Crystal Radio. Niente. Beh, si blocca tutto. Si blocca tutto a Milano. Non fatelo, no, non fatelo, non fatelo. Luce verde. Ed è Gali con Good Times. Devo dire che mi è iniziato veramente male stamattina. Allora, te ti hanno rubato le chiavi di casa i tuoi parenti perché non volevano farti uscire di casa. Io ho fatto su un casino col computer, ho fatto sbampare il computer di Whatsapp. E poi abbiamo parlato per quattro minuti del nulla e siamo riusciti anche a sbagliare l'entrata su Crystal Radio. Ecco appunto, su Luce verde. Anzi, che ringraziamo. Scusate, Luce verde, vi chiediamo scusa per il casino che abbiamo combinato. Però grazie per tutte le informazioni del traffico che, come sentiamo, è in aumento sulle arterie cittadine e anche dell'Interland. Bravo. Insomma, faccio un po' vino a questa radio. Un po' vino a questa radio. Tanto, la mattina è facile. Code a tratti sull'A4 Milano-Venezia, nel tratto urbano dell'A4, in direzione Sesto San Giovanni. Questo? Giusto. Bene bene. Giusto. E poi ascoltate i prossimi notiziari per gli aggiornamenti. Beh, non è così veloce. Mi piace. Iniziamo con la rassegna stampa. Ma magari dai, iniziamo a fare qualcosa per cui ci pagano, vai. Allora, Rogoredo, lo sapete, probabilmente perché i video sono girati sui social, treno avvolto dal fumo ieri mattina, intorno alle 9.30 di mattina. Era appena arrivato al binario 5, appunto il treno 20 miglia, partiva da 20 miglia, che arrivava alla stazione centrale. E quindi niente. È svampato pure lui. È svampato per un surriscaldamento del motore. Non c'è rimasto nessuno ferito, nessun intossicato. Nessun intossicato, nessun ferito. Ma nessun intossicato, nessun ferito. Forse un po' di spavento. Solo un disservizio. È un po' di spavento, forse. Perché se ti vede arrivare un treno che fuma, non è proprio... Esatto. Visto che non è l'Hogwarts Express, quello che ti porta a Hogwarts... Non lo so, non l'ho mai visto niente. Oh, ma no. Vabbè, ma continui da un paio. Vabbè, non hai visto Harry Potter. No, perché sai che c'è la roba, solamente le robe che mi possono succedere. Vabbè, perché? Non puoi diventare un mago? Tolto Star Wars. Non puoi diventare un mago? No, aspetta, spiega. Tanto oggi va così. Spiega questa cosa. Cioè, tu... Cosa vuol dire cose che ti possono succedere? Tolto Star Wars, non guardo film in cui accadono robe non esistenti. Quindi un film... Ah, non esistenti, perché non ti possono succedere. Esatto. Cioè, se vuoi un film dove nasce un bambino e lo partorisce, non è che tu non puoi partorislo, però nel senso lo guardi, ok? No, non deve essere... Cioè, deve essere reale. Deve essere reale. Solo film realistici. Esatto, se no non riesco a empatizzare. Perché devi per forza empatizzare? Perché se cosa guardo? Un film per guardarlo? No, guardo un film per empatizzare con i personaggi. E poi va bene, posso anche apprezzarne. Come Interstellar. Interstellar è uno dei pochi che lo apprezzi a vedere, ma io non... Non empatizzi con Interstellar. Ma magari un quarto d'ora su tre ore che dura, ma per il resto... Troppo distante da me. Quindi tu Ghostbuster non lo guardi? No, non l'ho mai visto. Tanto non l'ho mai visto Ghostbuster perché non puoi partizzare con Slimer, il fantasmino verde. C'è per quello. Beetlejuice, mai visto anche quello? No, no, solo Star Wars, veramente. E ce l'ha a dire grazie al Covid perché sennò non l'ho mai visto. L'unico film fantastico, diciamo, fantascenza... Star Wars. Star Wars. Tutti quanti. I noves, noves. Sì. Eh, no... Vabbè, non so, no, sono rimasto senza parole questa volta. Tipo il Signore degli Anelli, eccetera. Mai visto. Mai visto. Perché... Scusa, adesso non vorrei dire, faccio un po' di body shaming, però insomma, con gli Hobbit potresti empatizzare. Con chi? Con gli Hobbit. Quei piccoletti. Ah, sì. Che cattivo, veramente. Spero... Willy Wonka? Willy Wonka no. Anche lì sono i Loompa Loompa, potrei dire. Ah, no, no, quello nuovo, quello nuovo. Ah, ok. Cioè, nuovo. Non un nuovo nuovo, perché sono uscito uno nuovo? No, no, quello di... Quello con Johnny Depp. Quello con 15 anni fa. Quello con Johnny Depp. No, ci sono... Eh, ce ne sono un po' di... Lì cosa mi hai empatizzato con le fave di cacao? Con cosa mi hai empatizzato? No, no. I Batman, i Batman, ecco. I Batman li ho visti. Bellissimi, ma poi chiunque di noi può essere Batman, no? Matteo Romano con Virale. Grazie Ufficio Programmazione per avermi fatto ricordare Matteo Romano con Virale. Sanremo 2022. Sanremo 2022. A me piaceva... Cioè, piaceva, oddio. Secondo me se l'è un po' tirata. Perché non è... E non è diventata molto virale. 12 milioni di visualizzazioni. Vabbè, quasi come quegli ascolti che facciamo noi ogni mattina, dai. La cosa... No, cioè, carina, oddio. Molto orecchiabile. No. Come oddio? No, cioè, dico. Comunque, non è che... Non si capisce mai se mai si riparte a fare un complimento o un insulto. No, ma perché di certo non è che ti rimanga. E non è molto virale, appunto. E non mi ricordo chi fosse. Però... Quando è partito ho detto, ah, ma è questa qua, bella. Ogni tanto mi capitava. Nelle compilation di... No, non ce l'avevo io, mi spiace. Me l'europevo. Molto probabilmente in quel momento stavo già dormendo. No, ma hai fatto. Aveva suonato alle 4 del mattino, quindi, poveretto, non l'ho ascoltato. Uno dei giochi che spesso mi capita di fare, per quanto riguarda Sanremo, consiste nel andare a vedere le canzoni dei Sanremo precedenti e ti rendi conto che quelle canzoni non hanno avuto vita oltre Sanremo. Ma giù un mese, giù un mese. Non c'è vita oltre Sanremo. Poi basta, dici, ah, ma quella lì, ma che sembrava dovesse spaccare, poi dopo un mese cade nel dimenticatorio totale. E poi non è che, se non è così tanto in alta rotazione, poi non è che ti ricapita. Ah no, no, no. Tra l'hai visto in questo caso, è stata ripescata. È stata ripescata. A meno che io non ho minimamente ascoltato il testo. Magari proprio diceva questo. Diceva, vorrei cercare di diventare virale, ma non ce la fai. No. No, non dice quello. Ok, comunque. No, per diventare virale devi dire le parole giuste, così che l'algoritmo ti tira su. Eh sì. Tipo, non so, chat GPT, detto così a caso. Intelligenza artificiale. Oppure tipo, ora hai sentito che hanno licenziato il CEO di OpenAI, Sam Altman. Veramente? Sì, sì, sì. No, due giorni fa tipo è successo, così. Basta, finito qua. Cioè non vai ad approfondire la notizia. La butti così, così l'algoritmo ascolta, sente, decripta, emette, algoritmizza, non so come si dice così. E quindi saliamo su, capito? In questo momento abbiamo fatto 8 milioni di visualizzazioni. E quindi se dico... Usando l'hashtag giusto. Se dico Merlata Bloom... Bam, siamo già trend topic. Ah, pensavo. No, perché siamo su Londra in questo momento. E stavo giù. Siamo in questo momento. Ieri ho visto che viene definito il centro dal cuore green, una cosa della visione. No, 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 no. Avrei voluto chiamare Monguzzi e chiedergli cosa ne pensava. Vi dico solamente che nel consiglio comunale di ieri Arianna Censi, assessora alla mobilità del comune di Milano, ha detto che di sicuro non verranno costruiti nuovi parcheggi a raso nelle aree del mall. Ok. Per le persone che non se la vogliono tirare, mall vuol dire supermercato. Ah, ma non vedi anche il centro commerciale, supermercato. Al super, al super, come diceva mia nonna. Vuoi comprare la roba al super. Ok. E sostanzialmente non ci saranno nuovi parcheggi, eccetera. Sapete benissimo Giulia Pelucchi in primis, ma tante altre testate giornalistiche, consiglieri e personalità di Milano sostengono che ci sia un grave problema di traffico, di mobilità nelle aree del Merlata Bloom, del nuovo centro commerciale, sia per quanto riguarda gli snodi stradali, quindi traffico in tilt, eccetera, ma soprattutto per quanto riguarda i parcheggi. Tanto che appunto Milano Tomorrow, per esempio, ieri su Facebook pubblica una foto in cui si vedono le auto che sono parcheggiate sotto i condomini, nelle aree verdi tenute anche bene, eccetera. Siamo arrivati già a questo livello. Siamo già arrivati a questo livello. Cioè tu hai speso 12 milioni di euro per comprarti la casa lì e poi ti ritrovi le macchine dei poveri posteggiate sotto casa sulla tua iguola. E adesso stavolta, non sono per la lotta di classe, ma stavolta sinceramente mi viene da dire che… ma come ne fanno? Meglio come ne pensano le cose. Dopodiché, nel senso, la Censia ha detto che niente posteggia raso, che vuol dire che non si andrà a cementificare altro suolo, però quelli sotto, il concetto era che quelli interrati, in teoria, dovevano essere destinati una parte ai residenti… Infatti continua, dentro il centro commerciale ci sono 45.000 metri quadrati di parcheggio a uso pubblico e stiamo lavorando per utilizzare quelli per evitare di usare altro spazio pubblico a raso. La questione, io personalmente, c'è sottovoce, io non ne capisco niente. No, però, il tuo manifesto politico c'è anche… ci sono anche parcheggi a raso dentro, lo sappiamo. Sono qua a parlare. No, però c'è il fatto… però se ho 45.000 metri quadrati di parcheggio… Ad uso pubblico, non so cosa voglia dire quella cosa lì, è strana quella cosa ad uso pubblico. Cioè vuoi capire se è il totale e dentro lì c'è una parte che andranno al comune, cioè che sono appunto per noi cittadini che non… o per i residenti che sono lì ad uso pubblico o a farci quello che vuole al comune, o se 45.000 sono solo quei destinati. Dopodiché poi, quanti posti sono 45… dimmi quanti posti, non mi dire 45.000 metri quadrati che non ha minima idea di cosa… non so quanti metri quadrati di casa mia. Ci informeremo. Casa tua quanti metri quadrati di casa mia? Non lo so. Vedi, nessuno lo sa. Ci informeremo. Se non hai fatto un rogito negli ultimi 3-4 anni non sai quanti metri quadrati di casa tua, perché poi te lo dimentichi anche, visto quello che costano poi cerchi dimenticati che hai speso 300.000 euro per 42 metri quadrati, capito? Ci informeremo, certo è che se io dovesse aprire domani un supermercato lo farei con tutto a regime, non con 250 persone che mancano, questa non è una critica al comune chiaramente. No, 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 anzi, al sistema. Condividete, gente, condividete. E' Alfa con bellissimissima… chissà se parlava della Presidente del Municipio 8, Giulia Pelucchi, quando ha pensato a questa canzone. Così? Così, sì, perché diceva, sei bellissimissima, gli diceva. Così, perché voleva fargli dei complimenti, perché si sta sbattendo. Esatto, perché chi non ha sentito il blocco precedente potrebbe sembrare strano. No, no, no. Il blocco precedente stavamo parlando del fatto che Giulia Pelucchi… Si sta sbattendo, proprio, diciamo, un termine tecnico-politico. Ricordiamo che non è andata la cerimonia di inaugurazione, proprio per questa roba qua della viabilità e dei parcheggi. Comunque cercando parcheggi Merlata Blum si trova il sito che dice che il Merlata Blum Milano offre 3.700 posti auto al coperto collocati in due aree, ovest ed est. E sono aperti fino a 30 minuti dopo l'ultimo spettacolo cinemato. 3.700, secondo me non sono tanti. Non lo so. Adesso devo vedere anche Arese. No, sì, dopo guardami Arese, ma secondo me non sono tanti i 3.700, eh. Scusa, quante persone ci sono in una sala di un cinema? Facciamo un conto veloce. Cento? Centinari. Anche duecento. Sì. Quante sale ci sono? Non lo so. Cinque? No, di più, sicuramente. Vabbè, facciamo finta che ci siano cinque, perché altrimenti non so fare la matematica. Duecento posti per cinque persone sono già mille posti solo quelli. Quindi solo quelli che vanno al cinema li fanno fare un terzo del parcheggio. Sì, vabbè, c'è qualcuno che magari va in un'altra maniera. Come? A piedi, dice, Vivi. Eh, però so. Camminando sulla tangenziale. Oh, non l'ho fatto io. Non lo so. Cosa vuoi che ti dica? Tazzo abbiamo già Ril per Instagram. Non l'ho fatto io. Vabbè. Mi è piaciuto, non l'ho fatto io bello. Comunque, riprendendo qualche altra notizia, si muoviamo un po' dal Merlata Bloom, perché ne parliamo molto spesso, forse pure troppo. Forse pure troppo. Come diceva Peppino Prisco, l'importante è parlarne. Parlarne bene o parlare male, l'importante è parlarne. Non credo che dicesse Peppino Prisco, ma fai niente. Ma infatti, Peppino Prisco, sai chi? Sì, sì, però pensavo, l'avesse detto anche lui, una cosa del genere. Beh, se poi ha tirato... Oscar Wilde, non so chi ha detto qualcosa. Le diceva tante, quindi... No, una notizia di spettacolo. Sì. Di spettacolo perché nel weekend... Una notizia spettacularis. Spettacularis. Uso, vedi anche questo, per salire se è in trend topic. Marky Ramon, che è uno dei Ramons. Chi? È uno dei Ramons. Ah, sì, ho letto, ho letto. Ho letto, ho letto, ho letto. Ho letto, ho letto. Sì, 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 vai. A Segrate si doveva esibire in un centro sociale, sostanzialmente. Un centro sociale autogestito, il Barahonda di Segrate. Bello il nome. E Ramon, sostanzialmente, sembrerebbe che non si sia esibito a causa dell'ideologia sostanzialmente del centro sociale in riferimento alla guerra israelo-palestinese. Una bandiera palestinese esposta. Esatto, siccome il centro sociale era particolarmente a favore della causa palestinese, Marky Ramon si è rifiutato di salire sul palco con la bandiera palestinese. E cosa hanno fatto i barahondisti? I barahondisti, una volta che hanno rivendicato il fatto di tenere la bandiera e che nel caso poteva anche non esibirsi, che t'ha pensato a te, c'hai uno dei Ramon, dice non mi frega niente, rimane la bandiera palestinese e hanno applaudito tutti. Gli organizzatori dicono che in realtà si sia trattato di una farsa. Perché? Perché quando sono arrivati Ramon nel suo entourage si legge che sono andati in giro per la sala a guardare le prese e si dice che magari non è che avessero apprezzato un qualcosa. E infatti Marky Ramon, ti adegui. Se è a Segrate in un centro sociale, cosa pensavi di trovare? Ma non credo sia la prima volta che avessero in un centro sociale, caro il mio Ramon. E se è la prima volta, ai ai ai, ci avete un po' fregato con lo storytelling intorno ai Ramon. Sicuramente no, però la si è rifiutato di salire sul palco. E quindi chi ha suonato alla fine? No, ma da quello che ho capito, siccome si legge che ha visto anche esibizioni della band prima di lui, tra le bandiere e messaggi come Cessate il fuoco, per questo non si capisce perché appunto Ramon abbia deciso di non salire sul palco. Magari non gli piacevano quelli che suonavano prima di lui. Casi era una protesta di... Se troviamo. Vabbè. Ma una cosa interessante. Peccato, c'era Matteo Romano che poteva andare a suonare lui, in caso si era liberato un posto, poteva andare a suonare la sua virale. Vabbè, questo lo sapete benissimo, chiaramente, però siamo una radio, dobbiamo fare informazioni, non c'entra tanto con Milano, l'Italia si è qualificata agli europei, lo dico a te. Sì, ah, posso dire? No, pensa che lo so, perché ieri sera per caso guardavo SkyTG24, non so perché. Ah no, perché aspettavo che tornasse il daily di X-Factor disponibile on demand, perché mi ero perso in diretta. Esatto. E a un certo punto, intervista pre-partita a Beppe Bergami, che dice, gli chiedono a me, ma ci basta un pareggio per passare, ma cosa state dicendo? Sicuramente non è da Spalletti, vedrete che si giocherà fino all'ultimo, ed è Spalletti l'allenatore, giusto? Esatto. Io ho visto pochissimo. E mi dicono che poteva finire anche 0-1, giusto? Sì, potrebbe finire molto peggio. Perché c'era stato un rigore negato all'ultimo minuto. Esatto, esatto, un rigore, siamo stati graziati, diciamo così, un pestone di cristal. Molto bello, anche è stato un momento interessante, quando è entrata l'Ucraina in campo all'inizio, completamente fischiata da tutti quanti. E mi veniva in mente... Non lo sapevo questa cosa. Sì, è venuto in mente quando pensavo a Stay with Ukraine, cuori gialli e azzurri. Insomma, complimenti. Non è che si giocava? Eh, stavo cercando quello. Potrei dire una cavolata, io ti dico Germania, ma non lo so. Vabbè, dopo lo vediamo allora. Achille Lauer, Rosevillian, Fragole. Tra la la la, tra la la la, quando non sai più come finire una canzone, metteci un tra la la la. No, però dai, carina, carina, Fragole, Achille Lauer, Rosevillian. O piangi come Cocciante. Se tu non scordi le canzioni di Cocciante, questa era una battuta di Sergio Sgrilli. Sergio Sgrilli, che si è tirato fuori. Il grande comico di Zeli, con la sua chitarra. E diceva che Cocciante, quando non sa finire le canzoni, è lì che tu te lo devi immaginare al piano che lì che scrive. Effettivamente piange sempre. E anche il tuo amico, comunque, anche il tuo vasco, quando non sa cosa fare, ci mette uno. Eeeh. No, sì, sì. Una congiunzione ci mette in mezzo lui. Ricordiamo che ha fatto una canzone che si chiama E, infatti. Sì, sì. E' buoni o cattivi, 2008. E' stato l'appice, quello. E' puntini, puntini. Sì, infatti. E' proprio lui, è lui, proprio. Beh, Ligabue l'ha fatta senza puntini, puntini. E basta. Sì. Vabbè. Te lo giuro, eh. Vabbè che ha scritto Ligabue quello che canta volente, non lente. Non avrei mai pensato in assoluto di sentire quella parola dentro una canzone. Nel senso, cioè, non so, come dire, faccio una canzone, ma no, ma io credo che qualsiasi parola sia stata esterita nelle canzoni, cioè non so, Silkepil, sicuro. Ma sicuramente. Ci sarà in qualche canzone, cioè. Chiaro, chiaro. Poi non so perché alle 7.50 a guardano te mi viene in mente Silkepil, però vabbè, non lo so. Cioè, ha flippato qualcosa. Dovrò a fare i baffetti. Ha flippato qualcosa, non so che cosa, boh. No, allora, parlando di cose serie, ti ricordi Fabio che avevano detto che lo giovedì scorso, il 16 novembre, c'è stata bagarra in Consiglio Comunale, ecco, quelle scene che solitamente vediamo alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica sono accadute anche in Consiglio Comunale, perché giovedì scorso il sindaco Beppe Sala ha commentato la mozione di sfiducia che era stata presentata nei confronti di Elena Grandi con Toni, assessora al Verde del Comune di Milano, con Toni forti, diciamo, dicendo che era una mozione vergognosa, che Elena Grandi potrà sbagliare, sì, ma fa molte cose e nessun altro in quell'aula sarebbe stato in grado di fare meglio. E poi ha anche aggiunto quella piccola stoccata ai gruppi consigliari sugli ambrugini d'oro dicendo che si tratta di una gestione cliente rara. Sì, non l'hanno presa bene. Ecco, infatti ieri c'è stato il Consiglio, ieri si è tenuto il primo Consiglio successivo a questo intervento al veleno del sindaco e infatti Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, sostanzialmente la minoranza, hanno contestato fortemente alzando dei fogli con scritto Sala Vergogna e tante altre cose, quindi che non riesco a leggere bene perché la foto prende solamente il Sala Vergogna. Vabbè, non l'avranno comunque presa bene, questa è la notizia. Esatto, vabbè, Bagari, innescata appunto dal discorso del primo cittadino di settimana scorsa, Samuele Piscina, consigliere della Lega, no, consigliere della Lega, punto. Quello della settimana scorsa con Sala è stato il momento più basso della consigliatura. Ha fatto un intervento scomposto, arrogante, ha evidenziato il consigliere. Certo, sì, stiamo leggendo le parole di Samuele Piscina della Lega, ma se andiamo a leggere le dichiarazioni, non dico buona parte però, di qualche esponente del PD o comunque della maggioranza, non è che si allontani poi tanto da questo qua di Samuele Piscina. Ricordiamo che Monguzzi ha chiesto di chiedere scusa al sindaco durante il suo intervento. Adesso noi andiamo in pausa un attimino, ma tu cerca cosa ha detto Bestetti, vedrai cosa ha detto anche Bestetti. Sta facendo il countdown, ti dico solo questo. No, non cade, no. Dice che questa volta lo sente scricchiolare. Comunque, 3317853555, il computer è tornato. Abbiamo di nuovo un WhatsApp, grazie ad Alberto che è intervenuto ed ha sistemato tutto. Grazie mille. E adesso andiamo con Malika Ian. Anche questo mi sa che era a Sanremo. Non riesco a leggere. Senza fare sul serio, era a Sanremo? No, non credo questa. Non ce lo so. Ma come non lo so, mamma mia, mamma mia. Allora, cercasi il compagno di chiacchierate la mattina. Cioè, Malika Ian mi licenza sostanzialmente. Ebbè, Malika Ian sì, è super milanese comunque, super milanese. E i WhatsApp funzionano, arrivano. Grazie mille ad Alberto, buongiorno, buona giornata. Fabio Lorenzo ci scrive, grazie mille per aver anche sistemato tutto il computer cevampato. Funziona tutto. Andiamo avanti quindi con la musica. Vi dicevo, Malika Ian senza fare sul serio. Ci vediamo dopo la pausa. Sembra un po' la nostra sigla a volte, senza fare sul serio. Invece no, noi facciamo sul serio, ma piano piano, in punta di piedi, come piace a noi. A dopo. Magnac, Maisharona. Maisharona, 8 e 0,9. Ma quando... Ebbè, non ci sono più le canzoni di una volta. Così volevo dirle, vabbè. Cosa vuoi? 79. No, il gruppo. Non ricordavo il gruppo. Crack, crack. Non ricordavo... Non sono i learners che... No, scherzo, ma... No, ma era chiaro che non fossero loro. E' un learners che non dire. No. Un learners che non dire. C'era bisogno di almeno altre 3-4 chitarre che arpeggiavano sotto. Sì, fate. Per essere una canzone dell' learners che non... Questa è più... E' la bandiera dell'Alabama. Sì, fate, fate, fate. Sì, tom, Alabama. Siamo in clima di Natalizio? Sì. Sì. Più o meno, più o meno. Vabbè, però... Vi ricordiamo... Non vi ricordiamo, anzi. Arriva la quinta edizione, l'iniziativa Panettone Sospeso. Sapete, ormai sono 5 anni che c'è questa iniziativa in cui sostanzialmente in 16 pasticcerie della città di Milano si potrà lasciare un panettone in sospeso per consentire a chi non ha la possibilità di comprarne uno artigianale e di celebrare il Natale con la... diciamo il simbolo. Il simbolo meneghino. Il simbolo culinario del Natale. Il simbolo meneghino culinario del Natale. Milano Tudeci fa sapere che tra queste c'è anche la pasticceria di Eugenio Massari. Ah, ok. Grazie. E gli altri 15? Non lo sapete, no. Ma c'è la vista di tutto, non è che dicono su, c'è solo. Ah, ok. Sarà oggettivamente quella più rinomata e quindi è giusto. Io devo dire, adesso non me ne voglia Eugenio Massari. Eugenio. Eugenio, no, Eugenio. Non me ne voglia, ma il nostro panettire qui di fianco fa un panettone buonissimo. Cioè nel senso, pane dolci, si chiama così. Ah, perché è la marchetta. Ecco la marchetta, ecco la marchetta. Vi assicuro che non mi pagano. In soldi. Qualche fette di panettone salta fuori. Ciao Cristian, tutto bene? Vedo già che poi chiederai in regia di tagliuzzare questo pezzettino qua dalla nostra diretta. Perché vi ricordiamo che ci potete vedere sul profilo YouTube di Milano, all news, 331-78-535-55 per scriverci. E poi io taglierò il pezzo e casualmente farò finti di mandare Lorenzo. Guarda il pezzo di stamattina, invece lo mando a Cristian del panettino. Oh scusa, non volevo mandarlo a te. Che poi io dico... Mi ho già fatto fuori uno da un chilo comunque, dico solo questo. No, io non ho ancora. Ho mangiato un panettoncino di quei piccoli. Ieri sono passato di là un attimo, ho detto, ma per caso avete già fatto i panettoni? Ah sì, guardi, ho appena sfornati. Vai, uno, un chilo. Io ne è arrivato a sera. Ma come è non arrivare a sera un panettone? No, niente, siamo in due in casa e io ne ho mangiato il 90%, il 10% l'ho mangiato l'altra persona che c'è a casa con me. Ok, chiarissimo. Io mi ricordo perfettamente che l'anno scorso che bazzicavo comunque la redazione, si mangiava panettone ogni giorno. Sì, panettone al cioccolato, attenzione, panettone al cioccolato ogni giorno. Vedo che Irene della Regia dice già sì, ok, stai calma. Stai calma che ti manca poco, Irene. Non esultare, perché è a gennaio che se ne mangiavano anche tanti, perché c'erano tutti quelli che rimangono da Natale. Sì, 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 me li scontavano, quindi li portavo con la Maria. E poi si arriva a Carnevale dove portavi invece le bombette lì piene di crema, come si chiamano. Come si chiamano? Le zeppole. Sì, ecco, grazie. Le bombette sono quelle, è la carne pugliese. Le bombette sono tipo degli involtini. Ah, in Puglia. Sì. A casa mia sono delle robe piene di crema, va bene. Cibette, cibo, la bomba alla crema. E per quello pensavo al bombolone, piccolino, bomboloncino, bombetta, per quello mi è venuto bombetta. Mamma che fatica, comunque. Comunque, tornando sulla questione film, abbiamo scoperto che neanche i film Disney hai visto. Perché non sono realistici. L'ufficio programmazione ci ha fatto un regalo. Perché prima c'era Crystal History e adesso ancora una canzone al passato, ma una di quelle che, mamma mia, se ti fa cambiare la giornata. Dai, allora cominciate a vestirvi, cominciate a mettervi dritti nel vostro corridoio, davanti all'ingresso, oppure nel corridoio davanti alle ascensori. Mettetevi lì, pronti, i tortelli vengono chiamati anche, infatti ci dicono al 3317853555 e hanno detto i tortelli e sono a carnevale. Giusto? No, sì, sì, giusto, sono a carnevale avuto, giusto, giusto. Meno male, grazie Marilena. Tutto l'inquisitorio. Grazie Marilena, sì, no, perché pensavo di essere già nell'errore. Comunque, torniamo sul pezzo, siamo lì nel nostro corridoio, davanti ai ascensori. Boom, testa alta, gambe dritte e strike a pose. Madonna con Vogue, avete fatto la vostra Vogue appunto, sai che il Vogue è anche un stile di ballo? Ah no, lo sapevo. Sì, sì, dove devi fare le mani intorno alla testa, fai dei palleggi col culo su e giù, in un certo senso, usiamo gli squat. Esatto. Il tutto, se hai un tacco 12 sotto, mi dai meglio però. Eh beh, no, lo facessi io, sai. No, no, ho fatto così, ho fatto così. No, ok, non lo sapevo. Ho visto dei ballerini fare delle robe con queste scarpe altissime, appunto fare del Vogue, perché poi c'è anche una modalità in cui appunto tu balli e poi c'è un altro punto proprio crolli a terra. No, un po' la James Brown, ma modernizzato. No, ma è molto figo, poi ci sono sfide, le battle ci sono. Ma non so, ma tu ridi. Ma no, ma perché mi viene tipo step up dance, no, come è che si chiama step up? No, sei un eroe. Sei un eroe, non lo so, cioè scusa, eh. No, perché mi viene in mente step up, te l'hai visto. Eh sì, step up era però sull'hip hop. Esatto, me l'immagino. Uguale, molto più glam, molto più glam, ok, paillette e lustrini ovunque, abiti da paura, tacchi vertiginosi e soprattutto questa roba che ogni tanto quando c'è lo stacco della musica, diciamo così, per non entrare in termini tecnici che al momento non mi vengono, si fanno cadere proprio a terra sul tempo di musica. E' bellissimo, cercate, sfide, battle, vogue, ed è bellissimo, è una roba fighissima, cercherò, cercherò, e intanto faccio un mea curva, sì perché non sono tortelli, cioè non sono zeppole quelle che ho sbagliato, le zeppole sono quelle con la crema sopra e non dentro. Con la marina appoggiata sopra spesso e volentieri. San Giuseppe. San Giuseppe, ho detto io? No, San Giuseppe, giusto. Vabbè, comunque torniamo sulle cose che ci competono già un po' di più. Santi erano santi, però ho sbagliato. Che ci competono un po' di più. Ieri, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico a Politecnico. Con poco aspettavano. Ma infatti non hai capito che stava qua del... No, perché sono sfalsate. Comunque, sostanzialmente, erano invitati sia il sindaco Beppe Sala che il presidente della regione Lombardia, Atilio Fontana. Al termine, si legge dal Corriere della Sera Milano, scattano le scintille. Hanno fatto una sfida di Vogue? No, sostanzialmente, il sindaco da là e dice, Fontana dovrebbe preoccuparsi anche un po' dei suoi problemi. Perché in precedenza Atilio Fontana aveva criticato il sindaco su cosa, secondo te? Sulla sicurezza. Pensa alla tua regione, invece di stare nella mia situazione. Infatti dice, perché i cittadini lombardi sono furiosi per le liste d'attesa della sanità. E questo mi sembra un problema anche più grave della sicurezza, si intende. Perché tocca a tutti. La sicurezza tocca a tutti, il sindaco. Ma mi sembra veramente assurdo. Della sicurezza si assume dal fatto che sia in risposta a quella vicenda lì. Lui esplicitamente non ha dato della sicurezza. Tanto che appunto il Corriere della Sera Milano non lo virgoletca. Ah, ok, ok. L'abbiamo svirgolettato. L'abbiamo svirgolettato. Però effettivamente, sostanzialmente, c'è questo rimbalzo di responsabilità. Il sindaco, come sapete, dice sempre, sulla questione della sicurezza, dice che a lui compete una percentuale bassissima. Il grosso è al governo, ma anche in regione Lombardia. Sì, ma posso dire poche tristezza quando fanno così. Ho capito, però il tuo problema è più grosso del mio, io la faccio più lunga. Nel senso, veramente, sembra che siamo lì a fare la gara di chi la fa più lontana. Cioè, dai. Per non dire altre cose di vulgarità. Non lo so, mi lasciano sempre un po' stare fatti quando fanno queste sfide del... Cioè, io sono più sfigato di te, oppure io sono... I problemi sono tutti problemi, sono tutti importanti. Cioè, anche, io dico sempre questo. Per una persona che non ha grossi problemi, anche l'unghia incarnita può essere uno dei problemi più grossi che ha, no? Ovviamente, o anzi, neanche l'incarnita, che si spezza un'unghia, può essere un problema. Oh, io ho quello, il mio metodo di paragone è quello. Il mio dolore è meno importante del tuo? No, non può essere così. Poi, ovvio, bisogna relativizzare, capire. Bisogna farti capire che non muore nessuno se ti rompi un'unghia. Però, insomma, non puoi dire che un problema della città è meno importante di un problema della regione, la regione è meno importante di quell'altro. Cioè, sono sempre problemi che comunque cadono sui cittadini. E tutti i cittadini hanno, giustamente, voglia di far sapere la loro. Anche perché si dovrebbe rimanere nella stessa direzione, sia grandi comuni che regione. 8 e 31 minuti, bentornati a Good Morning Milano. Al 3317853555 arrivano i WhatsApp, adesso che abbiamo ripristinato tutto. E prima mi hai parlato delle battle di Vogue, no? Hai parlato delle battle di Vogue. Ti ho fatto finalmente una persona colta, ti ho creato. E come l'ho creato ti distruggo. No, e ci scrive, ci scrive Fabio, che ti dice Buongiorno ragazzi, quest'estate ho visto una battle di Vogue. Molto bella, ma provandoci ad imitarli è anche molto difficile. Io sono super scordinato, dice. No, immagino sia complicato di detto voi. Vabbè, no, non avete visto me. Vabbè, adesso faremo un video dove faccio una Vogue. Vi faccio vedere. Adesso, però, parliamo di cose serie. Parliamo di cose serie. Perché qui con noi, come tutti i martedì, Walter Cherubini, presidente consulta periferie Milano. Buongiorno Walter. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, una buona giornata. Buongiorno Walter. Allora, oggi iniziamo parlando di un tema che ha a che fai con le periferie, ma non necessariamente sempre solo con le periferie. Parliamo degli ambrogini d'oro anche noi. Perché? Perché, insomma, dopo questa grandissima polemica intorno all'assegnazione dell'ambrogino d'oro al Pucci e il sindaco che ha detto che viene utilizzato, come è che era detto proprio là? Gestione clientelare. Gestione clientelare del Consiglio Comunale rispetto alla scelta degli ambrogini. In realtà, come consulta periferie Milano, il tema dell'ambrogino l'avete già toccato tempo fa, dicendo sostanzialmente bravi, bello, tutto bene, tutto bello, ma poi una volta che diamo gli ambrogini cosa succede? Diciamo che abbiamo cominciato ad affrontare questo tema nel 2011 e uno dirà, vabbè, ma in questi decenni che cosa avete combinato? Abbiamo fatto 800 concerti intanto, abbiamo pensato agli ambrogini, ma intanto abbiamo fatto 800 concerti e anche altro. Ma ecco, a proposito dei concerti, abbiamo fatto questi concerti perché abbiamo anche raccolto la disponibilità di, mediamente, negli ultimi anni, di 40 cori amatoriali che si sono resi disponibili a cantare nelle feriferie, non in luoghi bucolici, chissà dove, al conservatorio o altro, ma dove gli chiedevamo. Ecco, allora, questa qui è una logica. Guardate quante risorse ci sono in città e possono essere, tra virgolette, piegate a un utilizzo periferico, con reciproca soddisfazione. Perché se, tanto per associare la data, dal 2011, quando iniziamo, allora a Figino, ma proprio c'è una coincidenza temporale, tra l'altro, perché nel 2011, a gennaio, facciamo proprio a Figino, in quello che era il percorso periferie chiama, ma Milano risponde, e quindi avevamo proprio fatto un incontro dando la parola agli ambrogini che erano associati a consulta periferie Milano, per dire, ma avete preso l'ambrogino e allora che cos'è che è successo? Ma proprio nel 2011 abbiamo avviato lì la prima rassegna coristica Cori Milano per le periferie, con quattro cori. Se sono diventati 40 questi cori, mediamente ogni anno, avranno avuto il loro interesse. Ma vuol dire che ci sono tantissime risorse che possono essere messe a fattor comune, ma normalmente per come viene impostato il concetto organizzativo, che è quello del progetto, facciamo una sperimentazione, sono sempre cose, diciamo così, singole, che non diventano politiche. Si perdono un po', nel senso che appunto, voi cosa avete fatto? Avete fatto un'operazione di riconoscimento sul territorio di realtà che esistevano, che c'erano, le avete valorizzate e le avete anche, tra virgolette, sfruttate, o meglio, le avete dato la possibilità di dire, fate quello che sapete fare, appunto, e quindi tutti i concerti. Sì, perché in mezzo a questi oltre 800 concerti, quasi 400 sono stati fatti grazie alla disponibilità dei cori in una trentina di sedi periferiche. Voi un po' criticate che invece l'Ambrogino non faccia questa operazione, nel senso riconosce, trova queste realtà, le riconosce, ma poi quando magari ce n'è bisogno non vengono interpellate, giusto? E' questo un po' il tema. Ma diciamo, in primo luogo direi una cosa, gli Ambrogini, qual è la motivazione? Additare alla pubblica estimazione, un linguaggio magari un pochettino arcaico, l'attività di tutti coloro che abbiano in qualsiasi modo giovato a Milano. Io ti riconosco perché hai giovato a Milano e allora dico città di Milano, amministrazione comunale di Milano, che è l'espressione, diciamo, istituzionale, ma se mi hai additato a tutti quanti, perché non mi utilizzi? Certo, ma non in maniera sporadica, in maniera strutturata, perché tra le altre cose, gli Ambrogini sono un riconoscimento che è data 1925. Quindi, diciamo che fra un po' abbiamo il centenario degli Ambrogini. Se noi prendiamo... Aspettano noi, Lorenzo, è per darcelo. Ne sono stati riconosciuti, tra associazioni, enti, persone e quant'altro, oltre 5.000. Ok. Negli ultimi vent'anni, diciamo così, tra una cosa e l'altra ne sono stati riconosciuti circa 700-800. Adesso vado un pochettino spanometricamente. Quindi, soprattutto le realtà associative, che sono realtà continuative, non è che, siccome hanno preso l'Ambrogino vent'anni fa, poi sono spariti dalla circolazione, anzi, generalmente sono tuttori in campo. Ecco che allora possono portare, messi insieme nella loro eterogenità, perché l'Ambrogino, per esempio, una persona l'anno scorso ha avuto l'Ambrogino, e un ingegnere, che ha inventato le eliche, le eliche delle navi. Ah, prego. Cioè, questo ha fatto un'invenzione dove le navi girano in tutto il mondo, per cui sicuramente è una grande cosa. Ecco, per dire qual è anche il livello, si parla spesso, mercato delle vacche. Non entro nel merito, Giorgio Bocca coniò questo tipo di definizione. C'è un sindaco adesso, invece di stare clientelare cosa succedeva. Però poi andiamoli a vedere questi, queste, tra virgolette, perdonatemi il termine, Bocchiano, no? Vacche. E perché se noi andiamo a vedere delle cose, vediamo che ci sono, cioè, tutti hanno qualcosa da dare, e vorrei anche legarlo, ma poi magari particolarmente dopo il tema della casa. Infatti, dopo ne parliamo, ne continuiamo a parlare, ma in effetti il tema è interessante, per capire meglio che cosa si potrebbe fare appunto con quello che vi con gli alborgini d'oro. È un tema interessante, interessante per tutta la città e anche per le periferie. Torniamo fra pochissimo, adesso un momento di Elodie con Affari Spenti. Elodie, Affari Spenti, rientriamo in trasmissione, anzi in stress, media stress come si dice in questi casi, perché siamo sul pezzo, siamo sulla notizia, parlavamo di ambrogini d'oro, un ambrogino importante, quello che verrà dato a Ilaria Lamera, la ragazza che ha inventato un po' il movimento delle tende, così è stato chiamato, proposto dai Verdi, accettato dal Consiglio Comunale, quindi verrà insinita appunto nell'ambrogino d'oro, in quanto ha portato alla ribalta, se ne fosse ancora bisogno, in realtà il tema della casa, soprattutto in questo caso legata agli studenti, ma tema della casa che non è legato solo agli studenti, ma è legato a tutti i milanesi, ed è un tema stralegato con le periferie, giusto Walter? Ma qui torniamo sempre, anche qui, per ogni persona, per ogni ente a cui è stato assegnato l'ambrogino, in questo caso l'attestato di benemerenza civica. Proviamo a cogliere questa occasione. Allora, c'è una grande medaglia che è data all'Università degli Studi di Milano, perché fa il centenario fondata dall'allora sindaco Mangiagalli, della clinica Mangiagalli, tanto per intenderci. Quindi diciamo che le cose si chiudono. Ci sono modi e modi di approcciare le cose, tutti quanti possono avere un certo tipo di rilievo. Ai tempi, mi lego a un fatto personale, avendo fatto l'Università degli Studi di Milano, in particolare la Facoltà di Legge, ero stato eletto ai miei tempi rappresentante degli studenti nel Comitato di Gestione degli Impianti Sportivi. Tutti quanti si candidavano al Consiglio di Amministrazione, chi al Consiglio di Facoltà e quant'altro. Io ho sempre avuto delle strade un pochettino strane, quindi Comitato di Gestione degli Impianti Sportivi. Però in questa logica qui, che cos'è che facciamo? Organizziamo tutta una serie di tornei di calcio e di pallavolo per gli studenti e le studentesse universitarie, perché la pallavolo in particolare è frequentata dalle ragazze, più che dai ragazzi. Il torneo di calcio più grosso che facciamo fu appunto quello di calcio su tutte le università milanesi, che allora non erano quelle che ci sono adesso, perché adesso le università e le accademie sono numerosissime, allora è un pochettino ristrette, però 80 squadre per circa 1200 universitari che andavano a giocare. Quindi la logica era, bene, sei in un'istituzione ma cerchi di dare una risposta. Adesso chiaramente non pretendiamo che una studentessa che viene da Bergamo conosca la realtà milanese. Allora, un conto è porre l'attenzione a un tema, un'esigenza, poi ha avuto anche una bella idea, un conto invece è affrontare strutturalmente le esigenze abitative che ci sono, utilizzando tutto quel vasto parco di abitazioni, se pensiamo a quelle pubbliche, anche quelle sotto soglia, di cui abbiamo parlato alcune volte, dove appunto la logica che abbiamo proposto era quella, cerchiamo di rigenerare socio abitativamente le periferie e possiamo dare agli studenti universitari tutti gli appartamenti sotto soglia perché non hanno problemi sicuramente a vivere in un monolocale, cosa che infatti questi monolocali che sono circa 1000 a Milano, di cui ai tempi 500 non erano utilizzati, sono la risposta alla necessità degli studenti universitari. No, ma noi se lo guardiamo perifericamente, uno, utilizziamo delle risorse che abbiamo nella città e quindi ho poco bei cori, uno, utilizziamo delle risorse che abbiamo. In secondo luogo, queste risorse quando vengono, perché la logica era anche quella, vengono ma fanno qualcosa per il territorio, per il quartiere dove sono. Certo, non uno. Adesso c'è l'abitabilità, l'ospitalità diffusa di cui si sta parlando. Ecco, però, dal punto di vista dell'abitare nella città, noi dobbiamo vedere, rispondiamo a quel particolare problema oppure vediamo questa situazione e la cerchiamo di svilupparla dando una risposta alla città che ha tutta una serie di falle. Milano sicuramente ha tutta una serie di opportunità, infatti vengono molti a Milano, però ha anche tutta una serie di falle. Ecco, allora, è un'occasione per riflettere, ma riflettere da un altro punto, direi, di vita, dal punto di vista abitativo. Un altro punto di vita mi piace, non dal punto di vista, ma ormai è un uomo di radio anche Walter. Ormai... Allora, adesso noi andiamo ancora con una canzone, e poi quando torniamo ci dà magari qualche appuntamento o comunque magari ci racconti quello che potrebbe succedere anche nel futuro prossimo, appunto, delle periferie. So che c'è una scuola di periferie, quindi insomma, ne parliamo bene fra poco. Prima è il momento di Tom Grennan con How Does It Feel alle 8 e 47 minuti qui su Crystal Radio. Tom Grennan, How Does It Feel. Continuiamo a parlare di periferie, lo continuiamo a fare con Walter Cherubini. Walter, sono tante le iniziative che fate anche per comprendere meglio le periferie, per imparare cosa significa periferie. Sì, ecco, facciamo una chiusura con gli ambrogini, diamo qualche numero per magari i nostri radioascoltatori che non sono avvezzi al tema. E quindi quest'anno abbiamo, oltre all'Università degli Studi di Milano, abbiamo 5 medaglie d'oro alla memoria, dopodiché abbiamo 15 medaglie a una serie di persone e dopodiché a una serie di persone enti 20 attestati di benemerenza. Quindi diciamo che i premiati sono complessivamente oltre 30. ecco questo qui, c'è un regolamento nuovo che ha dato gli impegni. Tutto sotto il cappello dell'Ambrogino d'oro viene chiamato. In realtà, ma appunto viene diviso, metà medaglie, attestate. Ambrogino appunto 7 dicembre al Teatro Dal Verme dove ci sarà la cerimonia di conferimento di questi attestati. Per quanto riguarda i prossimi programmi a scuola di periferie. Perché noi continuiamo a dire che, ad affermare, che se non si conosce la città per quello che è, abbiamo fatto recentemente un incontro a Villa Scheibler in quel di Quartogiaro dove sono stati tra l'altro chiamati tutta una serie di ex consiglieri di zona o presidenti di zona attualmente in essere. proprio un'ampia platea. E ho detto, sapete che c'è a Siano a Milano? Ci sono state 50 persone, uno sapeva. E gli altri, tutti consiglieri, anche parlamentari nazionali. Allora, c'è un vuoto didattico. Noi dobbiamo esattamente costituire e sapere qual è l'ABC delle periferie. Perché se non conosciamo la città non c'è niente da fare. Faremo delle cose, ma ne perdiamo un mucchio. in problematicità che ci sono, e quindi non si risolvono, ma anche nell'utilizzo di queste risorse. Quindi facciamo a scuola di periferia. Abbiamo avviato, stiamo avviando adesso un po' il rodaggio. Aniguarda, lo Stadera, a Quartogiaro, a Lambrate. E dopo come sedi tematiche, dove c'è Abruzzano per i municipi e il decentramento, che è un tema che appunto è al primo punto del decalogo dalle periferie per ripartire. Dopodiché ci sono il punto dei doposcuola a Baggio, il punto della comunicazione territoriale a Quarto Cagnino. Ecco quindi l'idea, che è un po' anche quella di valorizzare gli ambrogini. Qui così non valorizziamo gli ambrogini anche, ma chi vuole persone singole o realtà associative, che vogliono mettersi a studiare, a comprendere qual è la realtà delle periferie nella loro articolazione e quindi anche trovare delle soluzioni perché se le periferie ritornano in ballo vuol dire che l'approccio non è adeguato. E quindi bisogna anche costruire un approccio adeguato, questo in connessione con delle realtà cittadine. Pensiamo con la City School per il governo delle grandi città di fondazione di Oguardi assieme al Politecnico di Milano, ma anche sostenuta dal Comune di Milano e dalla città metropolitana di Milano. Che appunto cercano di promuovere dei corsi universitari perché quando uno va a gestire il Comune di Milano, dov'è chi ha imparato a farlo? Da nessuna parte. Ed è chiaro che poi uno fa quello che può, ma noi non ci possiamo permettere addirittura a Milano di avere qualcuno che fa quello che può. Uno deve essere come in campo di calcio. Se prendiamo un centro avanti deve sapere che deve fare i gol e deve essere anche capace. Non è che possiamo dire, speriamo, imparerà. Troppo spesso in una grande azienda ha imparato a gestire Milano, Walter, direi. Eh sì, i sindaci arrivano da quelle robe di vita. Ma non solo sindaci. No, molte volte. Spesso dal privato e sempre meno dal pubblico. È sempre complicato poi riuscire. Sì, nel senso il privato può darti degli insegnamenti, poi devi declinarli nel mondo del pubblico. C'è da imparare da vari. E chiaramente, dato che abbiamo fatto un esempio semplicissimo, è chiaro che se io voglio gestire un negozio e faccio il commerciante, c'è un discorso. Già una catena è diversa. Se faccio la gestione di una catena a supermercati, pensa, ecco, come è stato ribadito anche in quell'incontro a Quartogiaro, noi abbiamo una struttura organizzativa, amministrativa, che è quella del 1800. E ti è cambiato completamente la realtà. Poi si dice la burocrazia, il PNR, non siamo in grado. Eh, ma facciamoci una riflessione. Facciamo anche dei cambiamenti strutturali. Spesso il tema delle regole è un esempio importante, il tema dei cambiamenti strutturali. Ma sicuramente ne parleremo ancora martedì prossimo, sempre qui con Walter Cherubini. Grazie Walter di essere stato qui con noi. Grazie a voi, ai radioascoltatori in questo caso. Eh sì, e grazie appunto perché lì per riferire c'è sempre bisogno di riascoltarle, raccontarle, ma ascoltarle anche. E anche conoscerle, che non guastra. Perché appunto si possono poi conoscere meglio e capire davvero che cosa significa quel termine, che come dico, il MIT di Boston, quante significate? 200 utilizzi del termine periferia, diversi e anche contradditori. Noi parliamo invece di periferia urbana, quelle di una grande città all'interno dei confini amministrativi comunali. Va bene, allora andiamo con la nostra sigla, caro il mio Lorenzo, lo sai? Sembrate alla fine. Eh sì, sembrate alla fine. Andiamo con la nostra sigla, Dance to the Music.